L'amore più grande è il titolo del breve documentario che racconta la passione, morte e resurrezione di Cristo attraverso i riti e le processioni pasquali di Adrano, immagini meravigliose che valorizzano la città e quella che è stata l'appena trascorsa Settimana Santa. Sono quelle registrate dal videomaker Adranita, salvo Dio lo sa, e proiettate questo pomeriggio nei locali di Palazzo Bianchi. Si tratta di una vera testimonianza di una radicata tradizione religiosa che per tutta la Settimana Santa unisce e coinvolge tutta la comunità Adranita. Dalla Domenica delle Palme alla via Crucis Vivente, dalle processioni del Cristo alla Colonna, della Dolorata e del Cristo Morto, sino al dramma sacro della Diavolata del giorno di Pasqua, quando tutta la città compie un cammino religioso, artistico, storico e sociale. Immagini registrate con maestria da Dio lo sa, impreziosite dallo sfondo dei monumenti storico-artistici della città per meglio raccontare la storia stessa della comunità Adranita. A scandire le fasi del documentario la voce narrante di Don Pietro Strano. La regia, come detto, è di Salvo Dio lo sa, che ha lavorato al montaggio insieme ai colleghi Marco Stancampiano e Salvo Alberio per un prodotto patrocinato dal comune di Adrano. Un lavoro molto apprezzato dai presenti. Il lavoro nasce da un'idea di Salvo Dio lo sa che ha diretto tutti i lavori inerente alla progettazione e alla realizzazione di questo breve documentario, definirei un breve documentario, che parte, prende spunto dalla passione, morte e risoluzione di Cristo raccontata attraverso le attività, le processioni e i riti pasquali che si svolgono ad Adrano. Quindi partendo dalla via Crucis organizzata dall'oratorio del Rosario, vengono intremezzate le immagini relative alle processioni che si svolgono il giovedì santo, il venerdì santo e che hanno l'epilogo con la rappresentazione religiosa e la diavolata e angelicata che si svolge la domenica di Pasqua in piazza Umberto d'Adrano. Ecco, come il video, le immagini, come si caratterizzano? Già di per sé sono molto suggestive perché il contesto dove si svolgono il Centro Storico di Adrano e la fede appunto dei devoti, la cittadinanza tutta che partecipa, agevola il nostro compito di raccontare appunto questi riti che hanno un forte impatto emotivo. La Pasqua raccontata dopo la pandemia. Facciamo questo discorso, ecco, secondo noi è importante non solo vivere i riti pasquali ma assolutamente raccontarli. L'abbiamo fatto due anni fa e quando parlavamo abbiamo parlato di ResurExit, ecco, della diavolata e non potevamo farlo quest'anno, cioè a maggior ragione che quest'anno ci sono stati tutti i riti. È stato bellissimo raccontare tutti i riti pasquali in un unico documento, ecco. Tanta attesa, no? Sì. Diciamo da quello che abbiamo percepito perché comunque siamo stati in mezzo alla gente, proprio abbiamo vissuto con loro queste progestioni e si presuppone molta attesa. Stiamo valorizzando quelle che sono le nostre tradizioni, specialmente quelle pasquali che sono centenarie. Rispetto a questo le vogliamo utilizzare in Europa e nel mondo affinché possa essere anche un momento di attrazione turistica per tutto quello che anche quest'anno è stato dimostrato e per l'attenzione che hanno avuto le testate nazionali come la RAI e tutto quello che abbiamo creato come veicolo per raggiungere quanto più persone possibile. Le nostre tradizioni pasquali fatte di grande impegno e sicuramente non folcloristiche ma veramente con una fede che si riesce a trasmettere in ogni famiglia, però non solo adranita.